Favorire il lavoro dei genitori con figli in età prescolare e scolare per ridurre la disparità di genere, sostenere le responsabilità di cura familiare e migliorare il benessere dei dipendenti, aumentando la produttività. L'assessorato della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso per la promozione di iniziative di welfare aziendale familiare per un totale di 1.420.000 euro. La famiglia rappresenta il nucleo della società e vogliamo mettere in campo ogni iniziativa necessaria per consentire ai componenti di realizzarsi nel modo più semplice e opportuno, affrontando le difficoltà dei nostri tempi, dichiara l'assessore Nuccia Albano. Questa misura di sostegno è rivolta ai dipendenti delle micro e piccole imprese, allo scopo di migliorare la conciliazione tra responsabilità professionale e vita familiare. Attraverso le azioni vogliamo supportare l'equilibrio tra vita lavorativa e privata delle persone, che può portare riflessi positivi sulla riduzione delle assenze, sull'aumento della produttività, sul miglioramento della motivazione e sul benessere organizzativo, ha concluso l'assessore. L'iniziativa è rivolta a micro e piccole imprese, enti pubblici e privati ed enti del terzo settore, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio siciliano. Tra le attività previste ci sono servizi di caregiving a domicilio, anche di emergenza non continuativo, babysitting o assistenti familiari per soggetti fragili o per la partecipazione ad altri servizi di custodia per i bambini e di supporto per i familiari fragili a carico. Servizi per la custodia dei figli nei periodi di chiusura o sospensione della scuola e poi ancora attività di pre e dopo scuola, accompagnamento dei figli dei dipendenti alle attività extrascolastiche e dei familiari fragili, per lo svolgimento di attività varie. Inoltre, sono previsti servizi che possano contribuire all'ottimizzazione dei tempi di percorrenza a casa lavoro e interventi di flessibilità aziendale e forme di co-working. Ogni proposta progettuale dovrà avere una durata minima di un anno e massima di 18 mesi e potrà ottenere un contributo fino a 90.000 euro. Le domande potranno essere presentate via PEC all'indirizzo dipartimento.famiglia.regione.sicilia.it entro il prossimo 29 febbraio.